Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Leonato di Brescia, siamo in compagnia di 5 ragazze, loro sono le 5 gnocche da Trento! Allora, iniziamo dalla ragazza con il cappello che si chiama? Serena! Poi? Veronica! Giulia! Anna Maria e Stefania, giusto? Anna Maria prega per noi! Anna Maria prega per noi! Allora ragazze, che canzone volete cantare? Azzurro! Ok, vai! Ma no, pensavo per morire io? No, pensavo per noi! Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, mi accorgo, non avendo un discorso, è lungo per me, mi accorgo, non avendo un discorso, è lungo per me, mi accorgo, non avendo un discorso, Siete pronti Trento? Vai! Siete pronti Trento? Vai! Cilvato Viva, ila Bisque, ila Ramoslere, ila Ramosere, ila Ramosere, ila Ramosere, ila Ramosere, ila Ramosere! Salve! Veramente bravo! Su, trezzo! Ma non è altro, è proprio papà Come facevo da bambino Che c'è gente, non si può più Ma non c'è il leone, non c'è il leone E non c'è il leone, non c'è il leone Si salta dretto al zurro Che c'è Clinton Si salta, si salta, vai! Si salta, si salta, vai! Un aplauso al Ignoque da Trento!